La palla nel mezzo, un po' qui nella rete! La rete del Cagliari con un poco al minuto numero 95. Allora Velare, limite dell'aria, vuole un poco, palla Crevenelli, un poco! Riesce a trovare comunque lo spazio per calciare e per trovare il 3-0 Cagliari. Palla per un poco, è 3-1 su assist in pratica dell'Udinese. Il pallone è arrivato a un poco, destro secco, che fredda per la terza volta scuffetto.